Notizie riguardo a un vecchio stabilimento imperiale su Sullust. D'Arso vorrebbe recuperare delle armi da un deposito interno. Però non le ruberemo prima. Per sicurezza ho chiesto un po' d'aiuto. Shriv, tu andrai con il generale Calrissian. Prenderete le armi e noi vi ricoperemo. Per nessun motivo dovranno cadere nelle mani di mio padre. Hai un brutto presentimento. Mi stupirei del contrario. Che ci fanno qui gli uomini dell'ammiraglio Versio? Chiamiamo Aiden per un recupero. Calmati, è solo una squadra. Niente di che. E se non fosse così? Turbola. Questo posto è ben difeso per essere sposi qua. Ti ho portato solo per la compagnia. Invece guarda, un'analisi tattica. È una vecchia catena di montaggio. Qui l'impero costruiva gli atti atti. È bloccato. Già qui non si entra. Attiviamo la catena di montaggio e ci porterà dentro. Qui, sali nell'abitacolo. Sei una persona davvero invadente. Ma ho un gran senso dello stile. Hai visto? La fabbrica non è abbandonata. È in piena produzione. Bene. Allora ruberemo le armi e metteremo la fabbrica fuori uso. Facile. Lo dicevi anche per il salvataggio di Han solo dal palazzo di Java. Ce la caderemo. Come sempre. Quando ci sei tu, niente va secondo i piani. Tu sai quello che stai facendo, vero? Ma certo, è ovvio. Accesso non autorizzato. Avvio isolamento di sicurezza. Ah, bene. Sembrava un pulsante d'accensione. Ok, nuovo piano. Qui usano la lava, giusto? Sì. Perché? Che cosa hai in mente? Beh, improvviso tu trovaci un mezzo di fuga. Qualunque cosa pur di starti lontano. Bene. Vediamo a cosa serve. Opre l'aliche al 200%. Straripamento imminente. Problema risolto. Reem, hai rimediato un passaggio? Nuovo piano. Vediamoci alla catena di montaggio. Guarda, sto correndo un altro rischio enorme. Shreve, ti bacerei. Spostati e fammi guidare. Adesso ci divertiamo. Vai verso la navetta. Portaci in alto. Ma io cosa posso fare? Chiama Aiden e dille di venire a prenderci. Con molto piacere. A meno che questo coso non sappia volare, siamo al capolinea. Se muoio qui, sappi che io ti uccido. Grazie. Ho visto? Niente di più facile. Distruggere quello stabilimento ha avuto risvolti imprevisti. Arkbar sta già inviando le navi della Repubblica su Giacco. L'intera flotta imperiale si trova lì. Meno l'equipaggiamento che aspettavano da Solist. Penso che ci sarà anche mio padre. Ma catturarlo non è la nostra priorità. Questa battaglia potrebbe mettere fine alla guerra. Andiamo lì. E diamo loro una mano. Cara Bast, ricevo richiesta di aiuto. Ho perso il conto. Val, ti affido il Corvus. Da supporto aereo. Io e Shriva andremo a terra. Aspetta un attimo. Aiden. Vedi di tornare. Assicurate che abbia dove tornare. E Shri, spero che anche tu sopravviva a questa pericolosissima missione. Grazie, Della. La tua amicizia significa tutto per me, sai? La tua amicizia significa tutto per me, sai? Grazie.